No, io ho finito, tesoro, ti guardavo solo. Oh, figli, dopo te la mando questo video mentre cerchi. Mi fa un male, cane. Deviti occhi, dopo ti passa. Dopo te la mando questa video, poi la mangi a Luigi. Luigi, che ne pensi? Aspettiamo il tuo punto di vista, Luigi. Ti tira il viso, sai, completamente. Poi ti mando questi subito, così le mangi a Luigi. Stanka, vuoi un caffè prima di andare, tesoro, facciamo un caffè. Grazie. 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 Grazie.